Dopo il concerto di Torino siamo andati a trovare il nuovo ospedale degli ammalati, siamo andati all'orcologico amicale a trovarli e a regalare una giornata di festa, facendo delle canzoni con i ragazzi, chitarre la voce, ancora quando c'è una voce. E quando siamo usciti di là ci siamo resi conto di che dono importante noi tutti abbiamo e molte volte ce lo dimentichiamo di fronte a cose che ci sembrano così grandi, e invece sono fico, mentre vedi gli occhi di persone che hanno veramente dei problemi. E quando sono usciti di là ti senti veramente fortunato, io non sono nessuno per dire come bisogna vivere, ho fatto anche un sacco di errori, però posso dire una cosa, ricordiamoci che siamo stati reati, che ci hanno dato questo dono, che si chiama vita e non ce lo dobbiamo mai dire. Grazie a tutti. 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 E' una riguente, e' una riguente, e' una riguente, e' una riguente. E' una riguente, e' una riguente, e' una riguente, e' una riguente. E' una riguente, e' una riguente, e' una riguente. E' una riguente, 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 e' una riguente Grazie.